Dopo due settimane di stop forzato, il campionato di eccellenza riapre i battenti e dà il benvenuto a un nuovo impianto. Corsa Pienza e Fontenovese vi danno il benvenuto al Prosperi, signore e signori. Il buongiorno ve lo danno invece Andrea Dirix e Gianluca Di Bella. A ritorno in campo, dopo le nevicate degli ultimi tempi, Politi e Sgherri chiedono risposte ai propri giocatori. Problemi di organico per i gialloverdi non saranno del match risqualificati di Luca, Bolzan ed Antonica. Sul versante ospite spicca invece l'assenza di Morelli, che in settimana ha accusato la forrattura del 7-1 a sale. E' uno scontro fortuito con un compagno di squadra in allenamento. Non mancano peraltro le sorprese nell'undici ischierato inizialmente da Stefano Sgherri. Andiamo a vedere le formazioni. Il Torso Pienza è in campo con Luciano Di Trepali, quindi Alongi, Manzo, Lupo, Florio, Muscia, Di Giulio Antonio, Pitocchi, Guidi, Perfili e Gigli in panchina. Ippoliti porta con sé il secondo portiere Riccardi, quindi Perla, Danese, Turcarelli, Balzani, Provaroni, Sola. Chiaramente in panchina l'allenatore è Marco Ippoliti. Per quanto riguarda gli ospiti, in campo con il numero 1 grieco, quindi Pasquilli, Palmerini, Delprete, Petrocchi, Giovannetti, Ceccarelli, Lalli, Prioteasa, Mari e Santoni. In panchina, in compagnia di Stefano Sgherri prendono posto da Scanio, Di Sabantonio, Prosperi, Cuppitelli, Iannilli, Petrangeli e Fontinovi. Dirige l'incontro il signor Longo della sezione Aglia di Latina, coadjuvato da Rufo di Roma 2 e Conti di Frosinone. È iniziato il match, è la Fontenovese che gioca il primo pallone, pallone giocato all'indietro a servire il terzino sinistro che spedisce il pallone lungo in profondità per cercare Prioteasa. Pallone controllato senza eccessivi affanni da Luciani che gira il pallone immediatamente sulla propria sinistra. Allungi sventaglia il pallone dalla parte opposta dove riceve ancora Manzo dopo partire il terzino della Torsa Pienza. Pallone troppo lungo però che non crea affanni all'interguardia rosso-blu. Indicazioni da parte di Sgherri al terzino sinistro Palmerini. Può giocare il pallone, la formazione ospite del Prete, il capitano, un'occhiata in verticale. Poi serve Lalli, Lalli scambia con il proprio compagno di reparto, Giovannetti che alza un campanile. Poi la sponda di Mari si duella sulla linea mediana. Poi alla fine mette tutti d'accordo per Fili che prova a innescare guidi. Controllato dalla difesa della Fontenovese ha commesso un intervento falloso, il centravanti del Torsa Pienza. 9 reti per lui in stagione. Calcio di punizione già battuto da parte della formazione Nomentana che può ripartire. Pallone giocato sulla corsa di sinistra. E' buono il servizio per Palmerini che poi prova a duettare con Mari. Non si chiude l'1-2. Pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Nulla di fatto per questa sortita offensiva da parte della formazione di Stefano Sgherri. Quando siamo giunti al secondo minuto di gioco al Prosperi. Siamo ancora fermi chiaramente sullo 0-0 di partenza in questo match valido per la quinta. Di ritorno nel girone di eccellenza. Ci vede il pallone di Giulio Antonio. Poi si è tolto a scena però in fallo laterale. Rimessa con le mani è per la Fontenovese. Pallone in verticale per Giovannetti che prova a governare il pallone. Alla fine però commette fallo sul capirano del Torsa Pienza. Calcio di punizione per la formazione di Marco Ippoliti. Corsa Pitocchi per ricevere. Invece il servizio di Lupo è in verticale. Prova a controllare Gigli. Alla fine però frana su Petrocchi. Calcio di punizione già battuto. Allora Lalli gira il pallone sulla corsia di destra dove prova a partire la Fontenovese. Riceva ancora Petrocchi. Pallone ancora in verticale. Sbagliato stavolta il suggerimento ma torna bene sulla sfera. In qualche maniera preoteasa. Poi però non riesce a controllarla. Recupera comunque la Fontenovese. Ancora Petrocchi. Fase di gioco piuttosto confusa. Prova a mettere ordine. La formazione di Sgherri. Pallone un po' a metà strada fra Del Prete e Grieco. Alla fine l'estremo difensore della Fontenovese che calcia il pallone in profondità. Staccano in due per un attimo Mari. Poi però Lupo forse c'è fuori gioco di dentro. Infatti così è da parte di Giulio Antonio. Calcio di punizione già battuto da Fontenovese che prova ad alzare ritmi di gioco. Di nuovo intervento falloso. Stavolta i danni di Mari. Calcio di punizione ancora una volta per la formazione di Sgherri. Battuto lungo da parte del capitano Del Prete. Stacca bene in copertura Muscia. Spedisce il pallone in fallo laterale. Pronto con le mani Ceccarelli. Guadagna forse qualche metro l'esterno da Fontenovese. Poi prova a duettare con Mari. Ancora Mari. Spalla la porta. Ancora lui. Prova a far tutto da solo. Alla fine si infila in un imbuto. Capisce tutto lupo. E alla fine c'è un intervento falloso. E danni di guidi. E calcio di punizione per il Torse Apienza. Si gioca a porte chiuse. Non è ancora stata concessa l'agibilità dell'impianto. del Prosperi da parte del Cominato regionale. Attenzione a Florio. Posizione di tersino destro. Calcio il pallone in profondità. Non può arrivare stavolta guidi. Comodo l'intervento di Del Prete. Non c'è pressione sul capiano della Fontenovese. Può calciare lui in verticale con la mancina. Attenzione al suggerimento interessante. Però era terminato in posizione di fuorigioco. Prio Teasa. Calcio di punizione già battuto dal Torse Apienza. Articolata combinazione da parte della formazione di Ippoliti. Alla fine Guidi non riesce a controllare il pallone. Vorrebbe rimessa con le mani il numero 9 del Torse Apienza. Sosteneva che l'ultimo tocco fosse stato di Pasculli. Non è stato dello stesso avviso il direttore di gara. E dunque rimessa con le mani per la Fontenovese. Prolunga perioteasa a favorire l'intervento di Ceccarelli. Che però non riesce ad arrivare sul pallone. E allora può impostare Florio. Pallone girato sulla corsia di destra dove c'è Alongi. Di Giulio Antonio sulla verticale. Poi Lupo bene ancora in verticale per Ragigli. Che prova ad andarsene sulla destra. Alla fine una carambola. L'ultimo tocco è stato di Giovannetti. Ha visto l'assistente. Dunque rimessa con le mani in zona d'attacco per il Torse Apienza. Pallone in verticale. Attenzione Guidi che fa un buon movimento. Però poi si chiude bene la retroguardia rosso-blu. Che esce con grande eleganza direi dai propri 16 metri. E prova a convertire l'azione difensiva in offensiva. C'è un intervento piuttosto rude ai danni di Mari. Calcio di punizione per la Fontenovese. Semplice richiamo verbale da parte del direttore di gara. I danni di Alongi. Qui ha rischiato il giallo. Il tersino del Torse Apienza. Calcio di punizione per la Fontenovese. Sul pallone Giovannetti. Tocco corto per Mari. Pallone in verticale. Bella combinazione da parte della formazione di Sgherri. Qui non c'è fallo secondo il direttore di gara da parte di Lupo su Mari. E allora può ripartire il Torse Apienza. Pallone giocato sulla corsia di sinistra. Poi riceve Pitocchi che però non riesce a controllare il pallone. Allora Prioteasa. Ancora Pitocchi con un guizzo. Prova a sottrargli il pallone e non ci riesce. Di forza ancora Prioteasa. Alla fine ancora la combinazione del giocatore della Fontenovese. Non si chiude. Comunque buona personalità da parte della formazione di Sgherri. In queste fasi iniziali del match. Allungi. Calcio a lungo. Il tersino del Torse Apienza. Pallone spizzato. Qualche maniera da Giovannetti. Che termina docilmente tra le braccia di Grieco. Ceccarelli. Prova a combinare qui con Santoni. Poi si rifugia dalle parti di Grieco. Del Prete. Largo sulla sinistra c'è Giovannetti. Prova a servire invece in profondità Mari. Anticipato. Ma può tornare sul pallone Palmerini. Che saggiamente torna dalle parti di Giovannetti. Bella combinazione ancora da parte della Fontenovese. Che libera Palmerini. Palmerini punta l'uomo. Poi prova a scambiare con Mari. Ancora pallone di ritorno. Buono il cross sul secondo palo. Non arriva però nessuno. Bella manovra della formazione di Stefano Sgherri. Riparte però il Torse Apienza. Pallone in verticale per Guidi. Controllato bene qui da Petrocchi. Concede semplice rimessa con le mani al Torse Apienza. Che era partito bene in contropiede. Pallone in verticale. Gigli controlla con il petto. Poi però in due lo chiudono. Ancora Gigli di forza. Grande numero da parte del numero 11 del Torse Apienza. Poi prova a superare il terzo. Non riesce. Fa buona guardia Pasquilli. Allora riparte nuovamente la Fontenovese. Pallone in verticale. Prioteasa anticipato. Commette fallo il numero 9 della Fontenovese. Calcio di punizione per il Torse Apienza. Già battuto. Può impostare Lupo. Allargo sulla corsia di destra per il capitano di Giulio Antonio. Spazio per salire il numero 7 del Torse Apienza. Prova a far tutto da solo. Ancora di Giulio Antonio. Poi c'è l'assistenza di Alonji. Fa ancora tutto da solo. L'ex dell'Almas. Alla fine Alonji. Pallone centrale per Pitocchi. Allargo sulla corsia di sinistra. Può salire Manzo. Attenzione. Quasi zona tira. Prova col sinistro. Alla fine spedisce lontano la minaccia. La difesa del Fontenovese. Ma attacca ancora il Torse Apienza. Pallone dentro. Troppo profondo. Comodo l'intervento di Riccardo Grieco. Nessun problema per quanto riguarda questa sortita offensiva del Torse Apienza. È una partita comunque gradevole. 12 minuti di gioco. Al Prosperi. Siamo ancora fermi sullo 0-0 fra Torse Apienza e Fontenovese. Bello scambio. Intanto fra Mari e Prioteasa. Alla fine rintuzza. La difesa dei padroni di casa. Al fine il pallone termina lontano dalla parte opposta. Rimessa con le mani già abbattuta. Pasculli. Dialoga con Santoni. Poi suggerimento in profondità per Prioteasa. Fermato. Poi Giglia domestica. Un buon pallone sulla mediana. Pitocchi. Allargo ancora per Di Giulio Antonio. Posizione di mezzala a destra. Suggerimento profondo per Guidi che allarga bene dando respiro alla manovra. Chiamando in causa sulla corsia di sinistra ancora Muscia. Poi pallone all'indietro per Manzo. Contrato da Prioteasa. Stavolta si è un po' addormentato sul pallone. Numero 3 del Torse Apienza. Prova a partire. Allora Prioteasa. Punta la porta. Attenzione. Prioteasa col destro. E pallone oltre la traversa. Prima occasione del match. È per la Fontenovese. Ha fatto tutto Prioteasa. Ha recuperato un ottimo pallone sulla tre quarti del Torse Apienza. Ha puntato l'area. E poi ha calciato col destro. Non è riuscito però a inquadrare la porta di Luciani. E comunque grande personalità da parte della Fontenovese in questa prima fetta del match. Siamo ancora fermi sullo 0-0 al Prosperi. Quando siamo giunti amici del grande calcio dilettante in prossimità dell'undicesimo minuto di gioco. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Qui Gigli prova a domesticare un pallone non facile. Poi di forza il pallone guizza dalle parti di Perfili. Ancora Perfili viene fermato da un ottimo intervento difensivo di Ceccarelli. Calcio di punizione per la Fontenovese. Già battuto. Prova la sventagliata in profondità per Palmerini. Che è veloce sì ma chiaramente non è Superman. Non può arrivare su questo suggerimento da parte del proprio compagno. Di Giulio Antonio non può arrivare sul pallone. Immediatamente recuperato dalla formazione di Sgherri. Sgherri metto in profondità per Mari. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora può partire di Giulio Antonio. Occu al break del Tor Sapienza. Gigli fuori giri per un non nulla. Allora se la cava la difesa della Fontenovese. Ceccarelli alza una sorta di up and under. Pallone profondo. Irraggiungibile per chiunque. Rimessa con le mani. Allora per il Tor Sapienza. Pallone profondo. Non può arrivare neanche questa circostanza per Fili. Rimessa con le mani. Allora per la Fontenovese. Scambio di cortesie praticamente in campo. Stavolta la rimessa con le mani. È per il Tor Sapienza. Se ne incarica Manzo. Poi servizio per Pitocchi. Allora in verticale per Guidi. Che arriva bene con la sponda. Ma non ci sono compagni ad assisterlo. Siamo già dalla parte opposta. Dove Manzo frana addosso. In maniera piuttosto palese. A Prioteasa. E dunque il calcio di punizione per la Fontenovese. Siamo distanti dalla porta difesa da Luciani. Chiaramente da lì è difficile calciare direttamente. Verso lo specchio della porta. Sistema il pallone con cura a Mari. Allargo sulla destra. Tocco corto per Petrocchi. Ancora Mari. Mari ancora. Ne salta un paio. Con grande eleganza. Poi servizio ancora per Petrocchi. All'indietro. Giro palla della Fontenovese. Si riparte dal capitano. Del prete. Va col bancino in verticale. Però ha capito tutto Lupo. Attenzione al Lupo. Veronica su se stesso. Poi pesca bene Pitocchi. Pitocchi prova a girare dalla parte opposta. L'idea era buona. Sbagliato però. La portata del lancio. Non può arrivare neanche in questa circostanza. Francesco Perfili. Rimessa con le mani. E dunque per la Fontenovese. Con le mani Pasquilli. Poi... Arrivano i pressi anche Ceccarelli. Prova di scendare in verticale. Il terzino della Fontenovese ma sbaglia. Allora attenzione a Gigli. Gigli ancora. Tocco all'interno per Pitocchi. Col mancino. Gira bene per Guidi. Che prova la soluzione col mancino. Non era facile. Bella iniziativa comunque. Da parte del numero 9 del Tor Sapienza. è pronto al rilancio grieco. Il terreno... Classe 91. È entrato dal prestito. A metà stagione. Lui era il titolare. Nella scorsa annata. Qui... Tanto muscia all'indietro. Per Luciani. Era nei pressi. Minaccioso Mari. Saggiamente si è rifugiato in fallo a trale. Il portiere del Tor Sapienza. Può... Attaccare ancora la formazione di Sgherri. pallone in verticale, Mari anticipato, nuova rimessa con le mani per la formazione ospite, ancora Ceccarelli, ancora servito Mari, ne presti da bandierina, lo fronteggio all'altro numero 10, ossia per Fili, prova l'imbucata dentro per Ceccarelli, ancora Ceccarelli, pallone sul sinistro, all'interno il servizio per Petrocchi, pallone che taglia a fette l'area di vigore del Tor Sapienza, scivola però abbondantemente a lato rispetto alla porta di Luciani. Il rinvio di Luciani, pallone che spiove oltre la mediana, non stacca nessuno, in maniera piuttosto clamorosa, allora Guidi, alla fine viene fermato da un ottimo intervento di Ceccarelli, che sta disputando una partita di grande attenzione da quella parte, Del Prete, suggerimento per Giovannetti, ancora Del Prete, va a dargli fastidio Guidi, alla fine sul rilancio riesce ad agganciare bene Lupo, suggerimento all'interno per Alongi, Alongi contrastato da un buon ripiegamento, in questa circostanza da parte di Lalli, rimessa con le mani per il Tor Sapienza. E' pronto Alongi, pallone in verticale per Di Giulio Antonio che tocca bene per Lupo, Lupo prova a tagliare il campo con una grande idea, si stava inserendo per Fili, buona copertura della difesa di Sgherri. E allora riparte comunque la Fontenovese, servito Petrocchi, Petrocchi prova a cambiare gioco perché dalla parte opposta si è sganciato Palmerini con un guizzo, lo anticipa Alongi. E la rimessa con le mani sarà per la Fontenovese, attenzione, servito Petrocchi, c'è la pressione alle sue spalle da parte della Tor Sapienza, giudicata regolare, fa giocare lungo, allora Di Giulio Antonio perde la maniglia e il pallone termina direttamente in fallo laterale. Con le mani Giovannetti, pallone in verticale per Mari che non riesce a servire sulla corsa Palmerini e stavolta dunque la rimessa con le mani sarà per il Tor Sapienza. Con le mani Alongi, si può vedere in profondità Gigli, c'è fallo su Giovannetti, ha visto l'arbitro stavolta, calcio di punizione per la Fontenovese, già battuto. Può salire Pasculli a campo di fronte a sé, poi lascia l'iniziativa a Petrocchi che sbaglia, poi sul rimbalzo è favorito ancora il numero 5 della Fontenovese che allarga ancora verso Palmerini. Questo è un tema piuttosto consolidato, questi cambi di gioco da una parte all'altra, da una parte della formazione di Sgherri a cercare di dare ovviamente ampiezza al gioco. Qui sulla rimessa laterale, il rilancio di Giulio Antonio verso Gigli, anticipato da Delprete, prova a subentrare Guidi di forza ma col fisico lo ferma Giovannetti. Serie di rimpalli sulla mediana, alla fine mette tutti d'accordo Lupo con grande personalità, ancora Lupo riceve dal compagno. Si può vedere in verticale di Giulio Antonio che stacca con la testa, non riesce a indirizzare però verso Guidi e il pallone scivola in fallo laterale. indicazioni da parte di Sgherri, da parte verso soprattutto i suoi centrocampisti, se non andiamo errati. Pronto intanto con le mani Giovannetti. In verticale verso Mari che vorrebbe un intervento da parte dell'arbitro che non fischia, allora Guidi prova a girare verso Lupo. Non c'è pressione da parte del centrocampo della Fontenovese, tutta schiacciata verso la propria area di rigore. Qui Musci si complica la vita, alla fine riesce comunque a guadagnare rimessa con le mani. Si può vedere Pitocchi. Pallone in verticale invece per Gigli all'interno dell'area di rigore. Attenzione Gigli, subentra per Fili, poi lascia Pitocchi. Pitocchi gira ancora per Busci che la mette nel mucchio. Prova a staccare Gigli, anticipato, non è finita per Fili, attenzione, pallone sul mancino. Ribattuto da Delprete. Azione quasi regbistica direi da parte della Tor Sapienza. Siamo già dalla parte opposta dove c'è un intervento falloso ai danni di Preoteasio. Calcio di punizione intanto per la Fontenovese. Pallone girato sulla corsa di destra, poi pallone in verticale per la sponda. Qui rischiano quasi di combinare una frittata. Intanto Florio e Luciani, al fine se la cavano i due. Di Giulio Antonio, ancora Di Giulio Antonio, pallone non è uscito. Ha recuperato Giovannetti, pallone sventagliato in profondità. Stacca bene Florio, con grande personalità ai danni di Preoteasa. Siamo già dalla parte opposta, attenzione, qui deve uscire Grieco. Lo fa con buon tempismo. Era in agguato Guidi. Riparte la Fontenovese. Giovannetti, Lalli. Ancora Giovannetti col mancino, un po' alla cieca. Attenzione a Preoteasa, che però aggancia bene e viene immediatamente contratto qui da Manzo. Procede semplice rimessa con le mani, però in fase d'attacco per la Fontenovese. Ancora Mari, gira per Lalli. Ancora Mari, bella iniziativa da parte dei due. Ancora Mari prova a puntare la rigore. Si porta verso il fondo per il cross. Prova a metterla dentro. L'intuzzato, ma non è finita. Ancora Palmerini, prova ad entrare. Cade a terra. Si è andato a infilare in un imbuto il terzino della Fontenovese. Qui siamo, attenzione, al break del Tor Sapienza. Numero da parte di Giulio Antonio, proprio di fronte a noi. Poi servito in orizzontale Lupo. Lupo sulla crambola, ancora prova a girare. Su Musci. Ancora Musci. In verticale verso Perfili, che prova a far secco in dribbli in Ceccarelli. Stavolta si è fatto saltare. Numero 7 della Fontenovese. Calcio di punizione per il Tor Sapienza. Erano i pressi, lungo di Latina. È pronto Lupo alla battuta di questo calcio di punizione. Lupo la mette nel mucchio. Esce bene del prete dei blocchi. Recupera Florio sulla linea mediana. Pallone girato verso Alongi. Alongi prova a duettare con Diggio Antonio. Difficile tenerla, ma con grande determinazione. Prova il capione del Tor Sapienza. Alla fine, però, gli soffre nel pallone. Lalli con una grande idea in verticale verso Mari. Pallone però appena troppo profondo per il numero 10 della Fontenovese. Allora può ripartire il Tor Sapienza. Florio. Giocato in verticale da parte dell'ex difensore centrale del Torrenova. A terra Guidi. Fa giocare il direttore di gara. Pitocchi ancora verso Guidi, che si è rialzato nel frattempo. Deve vincere l'esistenza di Giovannetti. Duello tutto fisico tra i due. Ancora Guidi di forza. Attenzione, Guidi. Pallone giocato prima sul destro, poi sul sinistro. Non trova il barco giusto, però, per indirizzare verso la porta di Griego. Ha già recuperato il Tor Sapienza. Salgono i ritmi del match. Ceccarelli. Tocco per Prioteasa. Poi all'indietro verso Pasquilli, che spedisce lontano. E recupera il Tor Sapienza. Un po' in affanno in questi ultimi minuti la Fontenovese. Pallone in verticale. Buono per Perfili. con un guizzo lo anticipa Pasquilli e concede semplice rimessa con le mani alla formazione di Marco Ippoliti. Sale per la rimessa. Musci. Ci vedrà Gigli. Prova a pescare invece Guidi. Pallone irraggiungibile per l'ex del Lancio Lavinio. Pallone ricacciato in profondità alla difesa della Fontenovese, che prova a distendersi in contropiede. Defende il pallone Mari. In verticale. L'assist per Lalli, che si era inserito. Poi Palmerini subentra. Attenzione Palmerini. È solo Palmerini il cucchiaio sul fondo. Si è divorato il gol del vantaggio la Fontenovese. Benovese. 22 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Nel cuore della prima frazione di gioco. La migliore delle occasioni è capitata alla formazione di Sgherri. Si è incuneato benissimo. Palmerini è venuto a trovare a tu per tu con Luciani. Non è riuscito però a sorprenderlo con il cucchiaio. Il pallone è terminato abbondantemente sul fondo. Rilancio di Luciani. Stacca bene qui Mari. Poi a terra. Pitocchi. Si va immediatamente a scusare il giocatore del Fontenovese. In realtà di Mari. Calcio di punizione per la formazione di Marco Ippoliti. Florio. Musci. Manzo. Ancora Florio. Pitocchi. Alongi. Il pallone è scodellato in verticale. Guidi. C'è intervento falloso. Ai danni dell'attaccante del Torsapienza. Calcio di punizione per la Fontenovese. Giovannetti deve retrocedere chiaramente. Può abbattere guadagnando qualche metro. Adesso la posizione è corretta. Può impostare Del Prete. Lalli. Petrocchi. Largo a destra. È completamente libero Ceccarelli. Infatti lo vede e lo serve. Attenzione. Zona cross per Ceccarelli. Un'occhiata a centro area. La spedisce nel Mucchio. Vuoto Mari. Prova con la testa ancora Palmerini. Che negli ultimi istanti di gioco è sicuramente l'attaccante più pericoloso nella formazione di Sgherri. Buona facoltà di inserimento da parte dell'esterno sinistro della Fontenovese. Il rinvio di Luciani. Pallone che spiove oltre la mediana. Stacca Pitocchi. Pallone che si impenna. Poi ancora Pitocchi con grande eleganza. Poi però cade a terra. Li soffiono il pallone. Allora attenzione a Ceccarelli. Un'occhiata dalla parte opposta perché si stava inserendo il solito Palmerini. Stavolta però la manovra non riesce. Torna comunque sul pallone bene Petrocchi. E ricomincia da dietro la formazione di Sgherri. Pallone dentro per Lalli. Poi Petrocchi. Attenzione al solito Palmerini che si inserisce ancora una volta da quella parte. Allongi stavolta attento. Gli soffia il pallone. Florio. Poi Digilio Antonio. Ancora Lupo. Pallone in verticale. Guidi. Non riesce a trovare la sponda. Allora rimessa con le mani. È per la Fontenovese. Giovannetti. Mari stavolta non riesce a controllare. Allora riparte il Torsapienza. Si è sganciato Lupo. Ottimo intervento di scivolata da parte di Giovannetti. Rimessa con le mani stavolta per il Torsapienza. Se ne incarica Allongi. Guidi. Con il tacco prova a leggere l'inserimento di Giulio Antonio che cade a terra. Contrasto ruvido con Giovannetti. Arriva Longo. Semplice richiamo verbale all'indirizzo del numero 6 della Fontenovese che correttamente va subito a chiedere scusa all'avversario. Calcio di punizione per il Torsapienza. Siamo all'attezza della tre quarti offensiva della formazione di Marco Ippoliti. Sistema con una certa cura il pallone. Paolo Giuseppe Pitocchi. Ne pressi anche Lupo. Dovrebbe essere l'ex del Palestrina a calciare a centro area. Fischi a Longo. Va Pitocchi. Pallone velenoso sul secondo palo. Troppo profondo però. Non può arrivare Guidi. Pallone scivola direttamente a fondo campo. Nulla di fatto. Quasi 25 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Qui al Prosperi. Siamo ancora fermi sullo 0-0. Una partita comunque piuttosto gradevole. Migliori occasioni. Fino a questo momento le ha avute la Fontenovese. Pronto al rilancio grieco. Pallone calciato profondo. Stacca bene Prioteasa che serve Mari con il tacco. Bene per Palmerini. Attenzione Palmerini. Fermato con ottima scelta di tempo da Alonji. Rimessa con le mani per la Fontenovese. Pallone in verticale. Quasi sulla linea di fondo per Mari. che cade a terra. Una pressione considerata eccessiva da parte di Florio. Che di fatto regala calcio di punizione. Che è un corner corto per la Fontenovese. E' pronto Mari. Luciani ne vuole due. In barriera. Sono Pitocchi e Perfili. Fischia Longo. Va Mari sul primo palo. Colpo di testa ad allontanare la minaccia da parte di Lupo. Insiste la Fontenovese. Va Petrocchi. Pallone troppo profondo. E' comodo l'intervento di Luciani. Che vorrebbe rilanciare subito. Ma laggiù c'è soltanto Guidi. Alla fine rilancia. Pallone a metà strada. Però tra Perfili e Guidi. Colpo di testa di Lupo. Poi Pitocchi. Allarga per Di Giulio Antonio. Ancora Pitocchi. Pallone stavolta in verticale. Anticipato Gigli. Riparte Petrocchi. Poi Lalli. Grande iniziativa da parte di Palmerini. Poi con l'esterno del piede. Vede bene l'inserimento di Mari. Che mette sul secondo palo. Un gran pallone. Appena in ritardo. Qui Preoteasa. Non è finita. Insiste la Fontenovese. Con grande personalità. Attenzione ancora a Lalli. Pallone girato ancora per Ceccarelli. Zona cross. L'effetto ha un po' tenero. Rintuzza la difesa del Torsapienza. Alla fine c'è un intervento falloso. Ai danni di un giocatore in casacca giallo verde. Calcio di punizione per la formazione di Politi. E comunque va detto che la Fontenovese sta interpretando il match davvero con grande personalità. Calcio era Luciani. Pallone giocato corto verso Musci. All'indietro per Manzo. Giro palla della formazione di Politi. Florio. Non c'è pressione su di lui. Alla fine con l'esterno. Tocca per Alongi. Alongi va in verticale verso Di Giulio Antonio. Se l'è un po' perso stavolta Giovannetti. Allora Di Giulio Antonio parte. Attenzione Di Giulio Antonio che penetra. La mette dentro sul primo palo del prete. Attento. Mette il pallone sul fondo. Primo calcio d'angolo all'inizio del match. per il Tor Sapienza. Bella iniziativa da parte di Giulio Antonio. Sarà proprio il capitano del Tor Sapienza a calciare nel mucchio. Chiama lo schema alzando le braccia. Va sul secondo palo. Attenzione altissimo Guidi. Aveva preso bene il tempo. Stavolta a Giovannetti. Alla fine il pallone però barca la linea di fondo. Senza che Perfili possa intervenire. E dunque si ripartirà con il rinvio da fondo campo ad opera di Grieco. Quasi mezz'ora di gioco al Prosperi. Siamo ancora verbi sullo 0-0. Perfili si appoggia regolarmente. Stavolta giudizio di Longo. Sulle spalle di Ceccarelli. Guadagna calcio di punizione la Fonte Nuovese. E' pronto il solido Mari. Deve retrocedere qui Perfili. Non è ai 9.15. Mari calcia nel mucchio. Attenzione Breoteasa. Attenzione Palmerini. Una carambola. Traversa clamorosa. Incredibile. Quasi un gollonzo. Ne stava venendo fuori con il solito Palmerini. Che è di fatto davvero l'attaccante più pericoloso della Fonte Nuovese. C'è anche un problema per Florio. Gioco fermo. Clamoroso. Praticamente quello che stava accadendo. Una serie di carambole all'interno dei 16 metri del Tor Sapienza. Ha deviato in qualche modo Palmerini. Il pallone si è stampato sulla traversa. Grazie. 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 Problemi per Michele Florio, esercizi di respirazione per il difensore centrale del Tor Sapienza che dà regolamento, deve abbandonare per qualche istante il terreno di gioco calcio d'angolo per la Fontenovese che ha avuto tre nitidissime occasioni per portarsi in vantaggio all'inizio del match, fischia il direttore di gara, Lalli stavolta con il mancino sul secondo palo attento Luciani, blocca in presa, attende che i suoi salgano andrà probabilmente con il rinvio lungo stavolta il portiere del Tor Sapienza, così è Prova ad arrivare Guidi, netto anticipo da parte di Giovannetti, può governare il pallone Mari arriva alla solita sovrapposizione di Palmerini, stavolta va dalla parte opposta verso Lalli Lalli cambia gioco con una grande idea dalla parte opposta verso Santoni colto però in controtempo dall'apertura del proprio compagno e comunque mi sembra piuttosto evidente l'impronta di gioco data da Sgherri e la propria squadra qui intanto Gigli non riesce a domesticare il pallone, allora rimessa con le mani per la Fontenovese che stabilmente governa la metà campo del Tor Sapienza da qualche minuto a questa parte intanto Mari non riesce stavolta a controllare sulla pressione di Perfili la rimessa con le mani stavolta è per il Tor Sapienza Musci con le mani non è giocato verso Guidi, alle sue spalle prova a subentrare Gigli poi con il tacco per un attimo Guidi, serie di carambole alla fine Lupo gira il pallone sulla corsia di destra a campo di fronte a sé Alongi, Alongi prova la solita sventagliata profonda stavolta non riesce a pescare però Gigli siamo già dalla parte opposta è in vantaggio Musci che può effettuare il rilancio dalla parte opposta Pasquulli sulla pressione di Gigli rischia e combina un patatracca attenzione al numero 11 del Tor Sapienza punta l'area di rigore, vuole uno contro uno con Pasquulli poi prova a crossare dalla parte opposta di Giulio Antonio la tiene in campo di Giulio Antonio e Palmerini prova a rientrare attenzione di Giulio Antonio, ancora di Giulio Antonio con un grande numero ma c'è Grieco sul primo palo attento il rilancio da parte del numero uno del Fontenovese pallone in verticale, attenzione per Prioteasa era diventato praticamente un assist quello del portiere della Fontenovese riparte il Tor Sapienza Alongi in verticale verso Guidi anticipato da un ottimo Giovannetti e poi c'è un intervento falloso o almeno giudicato tale da parte di Lupo calcio di punizione per la formazione di Sgherri che prova ad affrettare i tempi Ceccarelli pescato Petrocchi Petrocchi va in verticale verso Lalli che di prima intenzione prova a combinare con Prioteasa non si chiude la manovra della formazione di Sgherri riparte il Tor Sapienza Musci, Pitocchi Florio che nel frattempo è rientrato in campo senza problemi per fortuna riparte Alongi verticale servizio per Guidi esce ottimamente dai blocchi ancora Giovannetti che sta disputando una grande partita Petrocchi largo a destra riceve Ceccarelli Ceccarelli va in verticale bell'anticipo da parte di Pitocchi su Mari e poi Lupo va subito in verticale a convertire l'azione difensiva in offensiva deve uscire Griego protetto da Delprete spedisce il pallone lontanissimo Prioteasa è in fuorigioco si disinteressa del pallone allora può giocare il Tor Sapienza Florio allargo per Alongi Alongi a campo di fronte a sé prova a prenderselo tutto va a dargli fastidio Lalli poi pallone lasciato a Di Giulio Antonio ancora di Giulio Antonio con un grande numero poi va sulla corsa verso Alongi era in fuorigioco Gigli se avesse lasciato il pallone al terzino probabilmente la manovra avrebbe avuto un altro sviluppo calcio di punizione per la Fontenovese invece 35 minuti di gioco nel corso del primo tempo 10 più eventuali recupero al termine della prima frazione di gioco siamo ancora fermi sullo 0-0 nel corso di questa prima tranche di partita direi meglio la Fontenovese che ha avuto sicuramente le occasioni più nitide per portarsi in vantaggio soprattutto con Palmerini il quale ha colto anche una traversa mentre il Tor Sapienza fin qui si è fatto vedere raramente con pericolosità dalle parti di Crieco è proprio la rimessa Giovannetti Giovannetti va in verticale per Mari che fa una grande sponda Lalli appena a ritardo anticipato da Perfili che ha fatto bene la diagonale e alla fine c'è un intervento falloso ai danni di Lupo il calcio di punizione stavolta è per il Tor Sapienza a lungi verticale per Gigli ha cambiato qualcosa tatticamente Ippoliti infatti Di Giulio Antonio è stato spedito largo sulla sinistra scambiandosi di fatto di posizione con Gigli mentre Perfili è praticamente diventato interno a centrocampo Petrocchi all'indietro per Giovannetti sulla pressione di Gigli se la cava con grande eleganza poi serve all'indietro del Prete si muove qualcosa intanto sulla panchina della Fontenovese sta affrettando gli esercizi Iannilli per entrare in campo intanto Gigli sponda all'indietro per Alongi Alongi subito aggredito da Mari pressione fallosa anzi no intervento giudicato falloso da parte del giudice del Tor Sapienza calcio di punizione per la Fontenovese e c'è il primo cambio per la formazione di Sgherri esce Ceccarelli al suo posto Iannilli 38 minuti nel corso del primo tempo annotiamo il primo cambio fuori dunque Ceccarelli dentro Iannilli calcio di punizione per la formazione di Sgherri una posizione interessante è pronto Mari l'uomo in barriera Mari calcia molto profondo ci arriva quelli della Fontenovese poi Palmerini ripropone una deviazione il pallone che termina a fondo campo calcio d'angolo per la formazione di Sgherri pronto dalla bandierina Lalli pennellerà lui col mancino movimento sul primo palo prova ad arrivare del prete anticipato e allora attenzione al break del Tor Sapienza lo porta di Giulio Antonio si sgancia come una freccia per fili servito proprio il numero 10 del Tor Sapienza o quantomeno questa era l'idea non è riuscito ad arrivare il talentuoso esterno in Dota e Marco Ippoliti pronto Giovannetti pallone in verticale verso Mari che spizza non riesce a trovare l'inserimento di Lalli però poi prova a tornare sul pallone lo tocca in direzione di Santoni anticipato da un intervento rabbioso di Lupo poi pallone che viene girato sulla corsia di sinistra di Giulio Antonio anticipato secco da Pasquilli il calcio è rimessa con le mani per il Tor Sapienza già battuta pallone ancora verso il capitano giallo-verde poi arriva in qualche maniera Musci allontana il pallone che termina direttamente a fondo campo su un problema chiaramente per la difesa della Fonte Nuovese Tor Sapienza peraltro anche oggi sembra manifestare le sue vizi e le sue virtù ossia una difesa molto solida è la seconda del campionato alle spalle di quella dell'Alba Longa ma un attacco che segna davvero col contagocce Giannilli preoccupato dall'aggressione di Gigli si rifugia in fallo laterale rimessa con le mani affidata da Longi a Longi verso Gigli protezione del pallone con il corpo da parte del numero 11 del Tor Sapienza subisce la carica giudicata fallosa da parte del neo entrato Giannilli calcio di punizione stavolta per il Tor Sapienza pronto il solito Pitocchi si avvicina anche Lupo va Pitocchi pallone troppo profondo in questa circostanza comodo l'intervento di Grieco prova a ripartire da Fontenovese Prioteasa prova a duettare con Palmerini colto in controtempo dal pallone di ritorno del compagno qui di Giulio Antonio stavolta con un pizzico di fortuna ne supera un paio attenzione di Giulio Antonio si accentra poi scambia con Guidi che allarga molto bene verso perfili zona cross la mette dentro pallone troppo profondo per Pitocchi che la tiene in campo a giudizio dell'assistente e poi guadagna rimessa con le mani stavolta si è fatta trovare un po' sguarnita l'edroguardia di Sgherri che infatti è inviperito in panchina con le mani Pitocchi pallone molto profondo che spiega all'altezza quasi del primo palo a terra in due fa giocare il direttore di gara non è caduto assolutamente nulla siamo già dalla parte opposta attenzione Palmerini cambiato ruolo anche al numero tre della Fonte Novese può impostare Pitocchi pallone in verticale per la sponda di Prioteasa ancora Pitocchi allarga sulla corsa di sinistra pescando bene Mari lì è in superiorità numerica alla formazione di Sgherri attenzione Mari prova a incunearsi ancora Mari fa tutto da solo alla fine però Florio con tutto il suo mestiere si frappone tra il corpo dell'attaccante e il pallone e lascia che lo stesso Barchi la linea di fondo sfuma così una interessante azione offensiva da parte della formazione ospite pronto al rilancio Luciani che è ormai poco al termine dei primi 45 minuti il rilancio di Grieco Musci stacca bene su Prioteasa poi non arriva Santoni allora Perfili prova a prolungare la portata del pallone a questo punto è in vantaggio del Prede che combina la frittata e c'è calcio di rigore per il Tor Sapienza uscita scomposta di Grieco e cartellino rosso decisione che sicuramente farà discutere da parte del direttore di gara tutto è nato da un alleggerimento sicuramente sbagliato di Delprete verso Grieco si è infilato Gigli Grieco è uscito insomma in maniera un po' scoordinata anche se poi l'attaccante del Tor Sapienza era rimasto in piedi adesso è claudicante Gigli è comunque lungo non ha avuto esitazioni ha indicato subito il dischetto e ha estratto il rosso nei confronti del portiere del Fonte Novese che dopo un ottimo primo tempo adesso si trova nelle condizioni di poter subire il gol dello svantaggio a due minuti più eventuale recupero dal termine del primo tempo è già pronto Guidi sul dischetto problema intanto per Di Giulio Antonio deve uscire Riccardo Grieco che non si capacita della decisione del direttore di gara continuano a parlare i giocatori in campo sicuramente una decisione che farà discutere ora staremo a vedere chiaramente quale sarà la decisione di Stefano Sgherri chiaramente dovrà essere ridisegnata la formazione uscirà Mari peccato perché aveva giocato sicuramente un ottimo primo tempo è pronto a fare il suo ingresso in campo dunque da Scania classe 94 quale dovrà immediatamente fronteggiare la peggiore delle minacce sia il calcio di rigore l'assistente intanto non non ha non ricorda evidentemente che a causa dell'espulsione del portiere attimo di impasse al Prosperi pronto dunque il cambio fuori Mari dentro D'Ascanio Fontenovese in 10 per l'espulsione di Griego pronto sul dischetto dunque Riccardo Guidi continuano le polemiche in campo un episodio che sicuramente farà molto discutere adesso Lungo verifica il posizionamento dei giocatori parte Guidi col Mancino pallone nel sacco Ettore Sapienza in vantaggio a un minuto e spiccioli dal termine del primo tempo si sblocca il risultato al Prosperi esecuzione chirurgica da parte del bomber del Tor Sapienza decimo centro stagionale per lui e dunque Tor Sapienza 1 Fontenovese 0 al Prosperi però sicuramente farà molto discutere quanto abbiamo visto in campo con l'episodio che ha portato al rigore del vantaggio del Tor Sapienza e alla contestuale espulsione di Griego tanto Giovannetti difende il pallone lo calcia profondo Lalli solo per un istante interviene allora Pitocchi Florio Manzo aggredito immediatamente da Prioteasa ancora Manzo alla fine gli soffia il pallone Palmerini attenzione possibilità per la Fontenovese Palmerini e poi con un ottimo intervento Florio gli soffia il pallone alla fine Musci ricaccia lo stesso in tribuna con orgoglio la formazione di Sgherri punta nel vivo dopo un ottimo primo tempo devo dire che sicuramente fin troppo penalizzante questo risultato per la formazione ospite che aveva costruito tre nitide occasioni per portarsi in vantaggio nei primi 45 minuti qui finisce intanto il primo tempo al Prosperi e dunque i primi 45 minuti vanno agli archivi con il Tor Sapienza in vantaggio per una letta zero grazie al rigore messo a segno a un minuto dalla fine da Guidi la Fontenovese è in dieci per l'espulsione fallo da ultimo uomo del suo portiere ossia di Riccardo Grieco è tutto per i primi 45 minuti dal Prosperi lì alla regia grazie a tutti grazie a tutti